Nelle vite dei pittori bolognesi, narrate da Malvasia, ci sono delle vite che riguardano dei pittori di cui non si dilunga tantissimo, però ci sono degli episodi curiosi della loro vita che sono anche divertenti da narrare. In effetti più che una storia dell'arte legata alle loro opere, è curioso anche vedere alcuni aneddoti che riguardano la loro vita. Uno di questi pittori, molto importante comunque, nel senso che ha fatto delle opere eccelse, che è nato a Bologna e si chiama Amico Aspertini. Amico Aspertini, che nasce a Bologna nel 1474 e muore nel 1552, nasceva da una famiglia di pittori e probabilmente impara il mestiere dal padre pittore. E' curioso che il Vasari, nelle sue vite, raccolga, diciamo, in un capitolo, in un paragrafo, la vita di alcuni pittori che lui definisce romagnoli e che operano comunque a Bologna. Questi pittori sono Il Bagnacavallo, Innocenzo da Imola, Girolamo da Cotignola e, appunto, anche Amico Aspertini. Ed è curioso come lui, insomma, descriva l'ambiente che c'era a Bologna quando operavano questi pittori. Che vengono descritti dal Vasari come vanagloriosi, superbi e molto invidiosi uno dell'altro. E leggiamo dal suo libro cosa dice. Erano superbi e vanagloriosi, tanto che questo li fece deviare dalla via buona, la quale all'eternità conduce coloro che più per bene operare che per gara combattono. Fu questa dunque cagione che a buoni principi che avevano costoro non diedero quello che ottimo fine che si aspettava, con ciò che il presumere di essere maestri li fece troppo discostarsi dal buono. Come vedete, insomma, Vasari non è molto buono nei confronti di questi pittori. In realtà lui prediligeva i pittori che erano caparbi, che erano determinati, che erano modesti, che lavoravano tutta la loro vita per la pittura. Mentre invece persone un po' bizzarre, un po' particolari, sicuramente non erano nella simpatia del Vasari. Parlando in particolare dell'Aspertini, il Vasari aggiunge Afferma che era un uomo capriccioso, con bizzarro cervello, come sono anche pazze e capricciose le sue figure. Effettivamente l'Aspertini era molto originale per quello che riguardava i suoi dipinti e un'altra caratteristica che il Vasari in parte critica è che l'Aspertini quando nei suoi viaggi raccoglieva nei suoi tacquini diciamo delle cose come degli appunti, insomma, dei disegni che raccoglieva un po' quello che erano le cose interessanti che vedeva, secondo il Vasari lui raccoglieva sia delle cose belle che delle cose brutte. Un'altra caratteristica che aveva è che le utilizzava nelle sue opere e poi le distruggeva, questi schizzi, questi disegni, perché altri non avessero da utilizzarli per i loro bisogni. Anche Malvasia racconta, narra un po' della vita dell'Aspertini. In particolare è interessante quando dice che l'Aspertini era di umore bisbettico e solitario, non volle mai assoggettarsi alla maniera di nessuno, studiando tutti ma cercando sempre un suo stile personale e biasimando quei molti che seguivano a copiare Raffaello. Quindi è anche particolare e meritevole il fatto che l'Aspertini cercasse comunque un suo stile personale invece che seguire le copie di altri pittori famosi. Altri aspetti particolari che vengono sottolineati dal Vasari sono il fatto che l'Aspertini dipingesse con entrambe le mani e tenesse con una mano il colore scuro e con l'altra il colore chiaro. Questo fatto, oltre al fatto di circondarsi da una miriade di contenitori di tutti i colori, lo faceva sorridere, faceva un po' ridere dipingere l'Aspertini, anche perché dipingeva con questi occhiali a vicinanza dalla tela e quindi sembrava un personaggio molto particolare nel suo modo di dipingere. Inoltre il Vasari aggiunge che verso i 70 anni praticamente un po' perse il lume della ragione e cominciò a vendere tutto quello che aveva a basso prezzo e ogni tanto quando in realtà ritornava in sé voleva riprendere indietro quello che lui aveva venduto con insomma anche delle scene abbastanza particolari. Un'altra caratteristica sempre che viene sottolineata dal Vasari è come l'Aspertini fosse bizzarro anche nel parlare, che descriveva le cose più pazze del mondo e tutte le persone che erano vicine a lui ridevano un po' di questa bizzarria del pittore. Un altro pittore di cui si ricordano alcuni aneddoti particolari, insomma curiosi, sono Pellegrino Tibaldi, il quale visse tra il 1527 e il 1595. Praticamente Malvasia dice che era un seguace della maniera del Buonarroti e i Carracci lo ebbero in grande stima e lo chiamarono il loro Michelangelo riformato e mandavano i loro allievi a copiare gli affreschi e i dipinti del Tibaldi che erano a Bologna. All'inizio, sempre Malvasia, dice che Tibaldi imitò o prese spunto, diciamo, dalle pitture del Bagnacavallo e poi di Michelangelo. Un aneddoto molto particolare che ricorda Malvasia è quando l'architetto Ottaviano Mascherini ricorda che andando fuori una porta di Bologna si imbatte in un uomo che, sdraiato sotto un cespuglio, si nascondeva. Riconobbe che questo era il Tibaldi e questi gli raccontò che era disperato perché non aveva poco lavoro e faceva fatica a sopravvivere e voleva lasciarsi morire di inedia, al che il Mascherini lo dissuase e lo aiutò a trovare lavoro. Tra l'altro poi divenne famosissimo come architetto e lavorò anche all'Escoriala in Spagna. Interessante, insomma, queste caratteristiche, questi aneddoti che ci fanno vedere i pittori anche nella loro vita spicciola di tutti i giorni e anche nelle loro crisi momentanee che poi hanno superato, come nel caso di Tibaldi, e l'hanno portato invece a raggiungere dei grandi successi. Un altro pittore di cui parla Malvasia è Bartolomeo Passarotti che nasce nel 1529 a Bologna e muore nel 1592. Bartolomeo apparteneva a una famiglia di pittori e anche aveva dei fratelli, ma sicuramente lui era quello più dotato della famiglia. e ebbero anche una scuola, questa famiglia di pittori, che venne frequentata anche da Annibale Carracci. Il Malvasia ricorda come, prendendo spunto dal giudizio universale di Michelangelo, Bartolomeo Passarotti si arrischiò anche a introdurre dei nudi nelle pale delle chiese, perché poi in effetti lui era molto abile nel disegnare la figura nuda e quindi alla fine, diciamo, vinse questa paura perché evidentemente non era così facile introdurre, diciamo, delle figure nude allora nei dipinti che dovevano andare in chiesa e diciamo ebbe comunque molto successo, insomma, in queste sue rappresentazioni come ebbe successo anche, ad esempio, nei ritratti infatti molti nobili e molta aristocrazia lo invitò e ricevette molti onori per i ritratti che fece oltre, ad esempio, a essere famoso per i suoi disegni che hanno un tratto sicuramente molto particolare e venivano ricercati in maniera importante dai collezionisti e dagli amanti del disegno e della pittura Il Manvasia narra anche come il Passarotti avendo molte commissioni prima si informava, diciamo, sullo stato sociale dei committenti e se questi non avevano, diciamo, delle referenze importanti mandava a dipingere i suoi allievi che erano poi Annibale e Agostino Carracci che venivano chiamati i suoi ragazzacci famoso fu un quadro di Bartolomeo Passarotti che rappresentava un vecchio che stringeva il seno a una vecchia il quale piacque tanto ad Annibale Carracci che ne volle fare una copia un altro pittore sempre nato a Bologna che ebbe una vita un po' particolare anche lui era un pittore, un personaggio bizzarro sono forse quei pittori in realtà anche più interessanti curiosi e divertenti almeno da raccontare la loro vita fu Andrea Donducci, detto il Mastelletta che nasce nel 1575 a Bologna e muore nel 1655 Andrea Donducci andò a studiare dai Carracci e anche da Reni che il Reni lo giudicava addirittura più portato di lui nel dipingere ma il problema di Mastelletta era che non aveva molta voglia di impegnarsi in realtà voleva dipingere velocemente quindi un po' tirava via nei suoi dipinti un'altra caratteristica è che non amava ritrarre i nudi o comunque le figure quindi si concentrò soprattutto nei dipinti di paesaggio dipinti di paesaggio che erano in effetti considerati veramente molto molto belli sia da Reni che dai Carracci infatti quando il Mastelletta andò a Roma dove appunto già c'erano sia Reni che il Carracci venne consigliato da questi di rimanere a Roma e di proseguire nel suo dipingere i paesaggi perché nessun altro esisteva in Italia che poteva superarlo in questo tipo di quadri però il Donducci in realtà non si fermò a Roma anzi cercò di scappare il prima possibile e ritornare a Bologna perché in realtà era molto schivo e quindi non era adatto a Roma gli piaceva frequentare la nobiltà e la società romana con tutte le onoreficenze con tutti i banchetti e con tutto quello che comportava la vita di un pittore in una grande città un'altra caratteristica della pittura del Mastelletta come ci racconta Malvasia è che lavorava in maniera furbesca perché adoperava maggiormente il nero cercando di mettere tutto in penombra Malvasia dice anche che si vedono di sua mano dei teloni che spaventano in effetti ci sono due tele del Mastelletta in San Domenico che sono enormi, sono gigantesche e effettivamente indicano anche proprio una capacità, una bravura anche comunque nel lavorare nel chiaroscuro che è notevole poi un'altra caratteristica che Malvasia sottolinea è che lui aveva un modo di dipingere tutto fuoco e tutto ribolliva quindi insomma in una maniera sempre molto agitata e veloce ma anche un'altra cosa in realtà negativa che poi in realtà tendeva a vendere i suoi quadri a un prezzo molto basso e qui aggiunge appunto che questa caratteristica lo stupiva e anche in qualche modo era un po' vergognosa il fatto che lui vendesse questi quadri a delle cifre così basse abbiamo detto che al Mastelletta appunto non piacevano le cerimonie e l'ambiente di Roma proprio perché lui era un carattere solitario e schivo e infatti si ritirò quando ritornò a Bologna a Sasso Marconi in una casa fatiscente e disabitata e sempre Malvasia racconta come lui che non voleva essere infastidito in realtà si vedeva, era accaduto più di una volta che si vedesse lui buttare il cavalletto, il quadro dalla finestra e correre giù vicino a casa con un bastone cercando di scacciare le rane che gracchiavano e che gli davano fastidio sempre dovuta a questa sua voglia di solitudine si racconta che era infastidito da un ragazzetto che vicino a casa suonava il piffero quindi cercando di scacciarlo in vari modi ma non riuscendoci divenne l'idea di comperare il piffero a questo ragazzino per evitare appunto di suonare nelle vicinanze in realtà però questa cosa, questa idea non ebbe molto successo perché non fece altro che portare tanti altri ragazzini che venivano sotto il casa di Mastelletta a suonare con tutti gli strumenti possibili e immaginabili sperando poi appunto di ricavare un guadagno vendendo questi strumenti al pittore per capire ancora meglio il carattere bizzarro di questo pittore il Malvasia racconta anche che era nemico del consorzio della Lode e se i committenti andavano a trovarlo si nascondeva e se veniva trovato si cacciava la testa in seno e buffonchiava che se vi era qualcosa di buono nelle sue pitture era sortita a caso o per fortuna quindi questo insomma è abbastanza sintomatico del tipo di carattere che aveva questo pittore inoltre si racconta anche un altro episodio che durante una festa del paese dove tutti la popolazione stava festeggiando a un certo punto arrivò una persona da Bologna con in dono dei pasticcini e dei dolci per i commensali e che diciamo tutti furono allegri e contenti di questo inaspettato regalo ma come appunto viene narrato dall'allegrezza si passò alla tragedia perché in realtà questi pasticcini erano avvelenati e molti di questi commensali morirono si scoprì poi dopo che chi aveva mandato questi pasticcini erano dei parenti del Mastelletta i quali avrebbero voluto ucciderlo eliminarlo per impossessarsi della sua eredità quindi il Mastelletta ovviamente dopo questo episodio divenne ancora più schivo e solitario tant'è che cambiava sempre taverna quando andava a mangiare e addirittura non si fidava neanche delle lavandaie che gli lavavano i panni perché aveva paura che fossero avvelenati questi panni e quindi utilizzava sempre gli stessi vestiti per mesi e mesi un'altra particolarità insomma abbastanza divertente del Mastelletta è che quando andava a mensa mescolava tutte le pietanze insieme e che gli chiedesse ma come mai insomma questo modo di fare lui rispondeva che tanto quando venivano ingerite quindi entravano nello stomaco tutte queste sostanze venivano mescolate insieme quindi non aveva senso secondo lui tenerle divise anche quando prima di mangiare ovviamente questo suo carattere bizzarro gli fece perdere piano piano tutte le commissioni e finì praticamente in miseria grazie a tutti